Benvenuti all'oroscopo di oggi, 2 novembre. Lasciatevi guidare dalle stelle e scopriamo insieme i consigli e le previsioni per ogni segno zodiacale. Che la giornata vi porti ispirazione, fortuna e tutte le opportunità che desiderate. Signoriete, Marte governa il vostro cielo, portando con sé energia ma anche tensione. Evitate di intraprendere discussioni inutili, specialmente in situazioni che non vi riguardano direttamente. Un approccio più riflessivo vi aiuterà a mantenere l'armonia e a evitare malumori. Lasciate che le cose si svolgano naturalmente e imparate a gestire le vostre emozioni con serenità. Chi fa parte di una coppia ha bisogno di sentirsi sicuro con il proprio partner. Prima di prendere decisioni importanti, è fondamentale riflettere. Sul lavoro, la pazienza e la concentrazione sono essenziali. Questo fine settimana vi troverete stimolati a essere sinceri e diretti nelle conversazioni. Avrete l'opportunità di chiarire situazioni in sospeso e di aprirvi a nuove idee. Tuttavia, fate attenzione la domenica. Qualcosa potrebbe far emergere frustrazioni legate a situazioni professionali. Utilizzate l'energia in modo costruttivo, magari dedicandovi a un progetto personale. Sarete piuttosto allegri, soprattutto in amore, grazie alla posizione favorevole di Venere. Avrete voglia di fare, di rendere il vostro rapporto unico e interessante. Sul posto di lavoro potrebbero arrivare presto interessanti novità per i vostri progetti. Segno Toro. Dopo tanto impegno, è arrivato il momento di godere delle soddisfazioni raggiunte. Guardate con lungimiranza alla sfera affettiva e, se lo ritenete necessario, apritevi a nuove prospettive in amore. Il lavoro sarà una fonte di serenità. Apprezzate i risultati ottenuti e utilizzateli come spinta per progetti futuri. Delle situazioni molto piacevoli possono essere vissute dai single. Nella sfera sentimentale la passione può essere momentaneamente assente. Un progetto di lavoro va affrontato con determinazione. Sarete spinti a riflettere su questioni profonde ed esplorare prospettive diverse. Mercurio in Sagittario favorirà conversazioni che vi aiuteranno a vedere oltre le apparenze. Domenica, però, la tensione tra Marte e Plutone potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza, soprattutto in ambito familiare. Cercate di non cedere all'impulsività. Mercurio in Sagittario vi incoraggerà a guardare oltre la quotidianità e a considerare prospettive diverse. Potreste sentire il desiderio di evadere dalla routine e di dedicarvi a esperienze che amplino i vostri orizzonti. Lasciatevi ispirare e non abbiate paura di esplorare idee fuori dal comune. Segno gemelli. Concedetevi qualche momento di svago in compagnia di una persona speciale. Tuttavia, non dimenticate di mantenere la concentrazione. Nel lavoro, la meticolosità sarà un fattore chiave per portare avanti compiti delicati. Se studiate, evitate le distrazioni. Ogni sforzo attuale contribuirà a costruire il vostro successo futuro. Nella relazione amorosa può aumentare lo stress. Il dialogo con alcune persone può risultare abbastanza difficile. Alcune questioni lavorative possono creare molta confusione. Sarà un weekend vivace e stimolante per voi, con Mercurio in Sagittario che accentuerà la voglia di comunicare e socializzare. Le conversazioni saranno vivaci e potrebbero fare nuove conoscenze. Tuttavia, domenica porterete attenzione agli scontri emotivi, soprattutto con persone vicine. Usate il vostro naturale ottimismo per risolvere eventuali incomprensioni. Non sarà un periodo facile, considerata venere in opposizione. I vostri sentimenti verso la persona che amate non saranno ben chiari. Attenzione a non fare dichiarazioni avventate. Nel lavoro non avrete altre occasioni per poter ultimare i vostri progetti con successo, considerato l'arrivo di Mercurio in opposizione. Segno cancro. Giornata positiva per sciogliere nodi che vi portate dietro da un po'. Le questioni professionali trovano risposte. E potrete finalmente fare chiarezza su certi aspetti sospesi. Affrontate i piccoli imprevisti con una visione ottimista. Lasciando che le soluzioni emergano con naturalezza e senza forzature. Delle spese impreviste possono rovinare l'intera giornata. Nelle coppie di vecchia data sono presenti armonia ed equilibrio. In questo periodo è meglio evitare le discussioni inutili. Il fine settimana vi spingerà ad esplorare sentimenti nascosti e a cercare chiarimenti. Con Mercurio in Sagittario, vi sentirete pronti a comunicare in modo sincero. Tuttavia, domenica, l'opposizione tra Marte e Plutone potrebbe creare tensione emotiva. Evitate reazioni impulsive e cercate di gestire i conflitti con calma. Settore professionale proficuo. Mercurio sarà con voi un'ultima volta. E con Marte in congiunzione sarete abbastanza attivi da ottenere risultati sopra le aspettative. In amore sarete abbastanza felici insieme alla persona che amate, sfruttando la posizione favorevole della Luna. Potreste sentire il desiderio di aprirvi agli altri con una visione più positiva. Segno Leone. Affrontate la vita con leggerezza, specialmente nella sfera privata. Non potete piacere a tutti e non è un problema. Accettare questo fatto vi renderà più liberi e rilassati. Sul lavoro, si profilano interessanti opportunità dove potrete esprimere il vostro potenziale senza esitazioni. La fiducia in voi stessi vi guiderà. Chi è da tempo solo potrebbe incontrare qualche tensione con la famiglia. Per i separati, ci sono buone prospettive per il futuro. Gli sforzi professionali potrebbero finalmente essere premiati. Sarete attratti da nuove prospettive e progetti creativi. Avrete una comunicazione brillante, che potrebbe rivelarsi utile per fare nuove conoscenze o proporre idee originali. Tuttavia, evitate di lasciarvi coinvolgere in conflitti emotivi la domenica. Cercate di mantenere un equilibrio tra ambizione e sensibilità, evitando così scontri inutili. Questo fine settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa dell'astro argente o inquadratura. Al contrario, i vostri sentimenti saranno ben chiari nei confronti del partner, grazie anche a venere favorevole, e da domenica sarà possibile vivere un legame più unito con la vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo, prendetevi il vostro tempo per riflettere su nuovi progetti, che nel prossimo periodo potrebbero darvi belle soddisfazioni. Segno vergine. Il percorso di crescita richiede consapevolezza delle proprie azioni e dei propri errori. Se avete commesso delle sviste, non temete. Siate pronti a rimediare, imparando da ogni errore con umiltà. Questa apertura mentale vi permetterà di risolvere situazioni complesse e di migliorare le vostre capacità relazionali e professionali. Chi cerca l'amore deve sempre rimanere concentrato sui vari obiettivi da raggiungere. In questo momento è presente molta più energia del previsto. La determinazione può regalare delle gratificazioni sul campo lavorativo. Il fine settimana sarà ricco di stimoli mentali e occasioni di confronto. Qualcosa vi spingerà a guardare le situazioni da una prospettiva più ampia, il che potrebbe essere utile per affrontare piccoli contrasti. Attenzione la domenica. Potrebbe emergere una certa tensione. Siate prudenti nelle discussioni e cercate di evitare conflitti inutili. Sarete invitati a uscire dalla vostra zona di comfort mentale. Potrebbe essere un buon momento per riflettere sulle vostre convinzioni e aprirvi a punti di vista alternativi. Se vi trovate in una situazione complessa, considerate di adottare un approccio più ampio per trovare soluzioni. Segno bilancia. Molti di voi sono impegnati nella pianificazione di obiettivi futuri, un'azione indispensabile per costruire basi solide. Tuttavia, ricordate di non trascurare il presente. Certi attimi preziosi non ritornano, e viverli appieno vi darà equilibrio e serenità. Con un po' di introspezione, saprete mantenere l'armonia anche nelle decisioni importanti. È arrivato il periodo ideale per fare tante nuove conoscenze. Con la pazienza è possibile superare alcuni ostacoli. In ambito lavorativo sono in arrivo molte soddisfazioni. Qualcosa vi spingerà a riflettere sulle vostre ambizioni e a condividere idee nuove. Potrebbe essere un buon momento per affrontare questioni importanti. Tuttavia, la domenica evitate di lasciarvi trascinare nelle discussioni accese. Mantenete la calma e cercate soluzioni pratiche, senza farvi coinvolgere troppo emotivamente. Vi sentirete più ottimisti e aperti a esplorare idee che vi portino fuori dalla vostra routine. Potrebbe essere una giornata interessante per iniziare una nuova lettura o fare piani di viaggio. Sarete aiutati a vedere il lato positivo delle situazioni e a godervi ogni esperienza. Segno Scorpione. È il momento giusto per perseverare su un progetto significativo nel quale la determinazione sarà la vostra migliore alleata. Non smettete mai di credere nei vostri obiettivi, anche quando le sfide sembrano farsi difficili. In amore. Avrete l'appoggio sincero di chi vi sta accanto, un conforto che rafforzerà il vostro cammino. La fortuna può essere altalenante. Finalmente nei cuori solitari può aumentare il desiderio di socializzare. La gestione delle attività lavorative può risultare complessa. Sarete attratti da conversazioni profonde e significative. Sarà un momento favorevole per chiarire le questioni irrisolte. La domenica. Però, cercate di evitare comportamenti troppo critici. Potrebbero accentuare le tensioni in ambito relazionale. Mantenere un approccio equilibrato. La giornata vi inviterà a esprimere i vostri pensieri con maggiore ottimismo. Mercurio vi renderà più predisposti a condividere idee e punti di vista che solitamente tenete per voi. Siate pronti a lasciarvi sorprendere dalle opportunità che si presenteranno grazie a un atteggiamento aperto. Segno sagittario. La comprensione sarà il vostro strumento segreto, specialmente nel rapporto di coppia. Un atteggiamento aperto e paziente vi permetterà di rafforzare legami importanti. Sul lavoro, si profila un periodo promettente, dove il vostro impegno sarà ripagato. Godetevi ogni piccolo trionfo, mantenendo un approccio positivo. Sul lavoro è possibile vincere una sfida interessante. Con Mercurio nel vostro segno, vi sentirete espansivi e desiderosi di ampliare i vostri orizzonti. Sarete più aperti a nuove idee e conversazioni stimolanti. Tuttavia, l'opposizione di Marte e Plutone potrebbe farvi sentire divisi tra desideri personali e necessità lavorative. Prendetevi un momento per riflettere prima di agire impulsivamente. Con Mercurio nel vostro segno, sarete ancora più espansivi e aperti del solito. La vostra curiosità sarà alle stelle e ogni scambio di idee vi darà nuova energia. Approfittate di questa giornata per esplorare nuovi ambiti e ascoltare punti di vista diversi. Potrà rivelarsi una giornata illuminante. Segno Capricorno. La pazienza è la chiave per affrontare le situazioni che non potete controllare. Anche se chi vi circonda non sempre risponde alle vostre aspettative, è importante accettare le diversità. Lasciate andare il bisogno di controllo e cercate di comprendere i limiti altrui. Questo atteggiamento vi renderà più sereni e aperti. La giornata può portare molto più ottimismo del solito. Gli obiettivi a lungo termine hanno bisogno di una profonda riflessione. Il campo lavorativo richiede molta creatività. Questo fine settimana vi inviterà a trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. Sarete stimolati ad esplorare nuove idee. Ma qualcosa potrebbe far emergere contrasti tra i vostri bisogni emotivi e le vostre ambizioni professionali. Canalizzate l'energia in modo costruttivo. Dedicandovi a obiettivi che vi stanno realmente a cuore. Sarete spinti ad allentare la presa sui dettagli e a guardare l'insieme. Questa energia vi sarà utile per vedere oltre i piccoli ostacoli e per esplorare nuove opportunità, soprattutto in ambito professionale. Mantenete la mente aperta e accogliete le idee che potrebbero ampliare il vostro cammino. Segno Acquario. Siate propositivi e pronti a cogliere ogni opportunità. Questa giornata vi offre soddisfazioni tangibili, specialmente in ambito professionale, quindi godetevi il successo senza pensare troppo a ciò che potrebbe mutare gli equilibri. Se vivete il presente con positività, troverete la motivazione giusta per guardare al futuro con fiducia. L'energia è indispensabile per superare delle sfide. Con costanza e calma, la coppia può risolvere dei problemi. Delle buone ispirazioni possono regalare successo sul lavoro. Sarete particolarmente ispirati e aperti. Il desiderio di esplorare e imparare qualcosa di nuovo vi guiderà verso conversazioni stimolanti. Domenica, però, l'opposizione Marte-Plutone potrebbe far emergere tensioni interne. Cercate di rilassarvi e di canalizzare l'energia verso obiettivi creativi o personali. Questa energia vi incoraggerà a guardare oltre e a nutrire la vostra sete di conoscenza. Sarete spinti a conversazioni stimolanti, che potrebbero portarvi a scoprire nuove idee e persone con prospettive uniche. Non abbiate paura di esprimere le vostre opinioni e di lasciarvi ispirare dagli altri. Segno pesci. C'è una buona intesa con i segni di fuoco. Anche se la passione potrebbe risultare travolgente. Moderazione e cautela saranno essenziali per non alimentare situazioni troppo ardenti. Nel lavoro. Procedete con calma e ricordate che ogni azione riflessiva vi condurrà verso traguardi solidi e duraturi. I single possono fare degli incontri speciali. Durante la giornata può aumentare la complicità con la persona amata. Sul lavoro si possono ottenere dei buoni risultati. Questo fine settimana sarà favorevole per esplorare nuove idee e interessi. Tuttavia, domenica potrebbero emergere conflitti interni. Mantenete un comportamento positivo e cercate di evitare di rimuginare troppo sulle difficoltà. Concentratevi sulla vostra attività che vi aiuterà a rilassarvi e a mantenere il senso di pace interiore. Sentirete un impulso a esplorare ciò che vi ispira, magari facendo nuovi piani di viaggio o approfondendo argomenti che vi appassionano. Apritevi all'ignoto e lasciate che la vostra immaginazione si espanda. Questa energia favorirà la scoperta di nuove possibilità.